Enzo Dalò, nuovo film d'animazione, ma è troppo riduttivo chiamarlo film d'animazione, Pipì, Pupù e Rosmarina, tanti temi, raccontaci come è nata quest'idea e il debutto al cinema ovviamente di questi tre personaggi. Esatto, l'idea è un'idea legata a un certo tipo di cinema, mi piace portare il cinema ai bambini più piccoli e quindi ho cercato di immaginarmi una storia che potesse coinvolgerli oltre ovviamente ai temi che tocco sempre e ai target di famiglia che cerco sempre di interessare alle mie produzioni e in questo caso ho cercato anche di dare un livello di lettura facile per poter coinvolgere i bambini più piccoli e così entrano in gioco Pipì, Pupù e Rosmarina che sono personaggi conosciuti dai bambini perché sono protagonisti di una serie televisiva che va avanti da diversi anni sulla Rai e allora siamo partiti per questa avventura e ci siamo inventati una storia che racconta di un giallo, un mistero, il mistero delle note rapite appunto in cui Pipì, Pupù e Rosmarina devono scoprire chi è stato a rubare le note da una partitura siamo in un mondo surreale, infatti le note sono scomparse dalla partitura quindi il ladro non ha rubato i fogli di carta con le note sopra ma ha rubato solo le note togliendole dalla partitura, sono rimasti i fogli bianchi insomma e Pipì, Pupù e Rosmarina per arrivare a capire chi ha rubato queste note devono mettere in scena degli spettacoli musicali e abbiamo utilizzato delle storie ben conosciute di opere classiche conosciutissime ma tutto quanto è stato trasformato dall'universo di Pipì, Pupù e Rosmarina che è un universo surreale, un po' cialtrone qualche volta, divertente, scansonato e quindi anche le grandi opere vengono ricantate con dei nuovi testi e con delle nuove storie in una parodia di quello che erano e quindi ovviamente anche un modo per avvicinare i bambini senza che magari se ne accorgano alla grande musica, all'opera, alla nostra cultura è l'opera di Pipì, Pupù e Rosmarina però quindi è un'opera che fa schiattare da ridere direi in napoletano è un'opera che ci permette di assaporare le note delle grandi opere infatti Daniele Di Gregorio ha scritto delle musiche fantastiche appoggiandosi alle partiture dei grandi autori come Rossini, Tchaikovsky e Massene ma con questo colore, questa materia, i personaggi di Anna Laura Cantone che ci permettono poi di divertirci insieme a queste grandi opere Allora, una domanda che mi ha incuriosito vedendo il film ma anche vedendo la serie televisiva ci sono tanti film d'animazione oggi in 3D, in 4D con citazioni colte che magari vengono raccolte più facilmente da un pubblico più adulto che da bambini con effetti speciali stratosferici qui siamo a qualcosa di veramente bello ma puro cioè c'è il cartone puro in 2D con il disegno curato qual è secondo lei la differenza e cos'è che apprezzano di più i bambini nel mondo dell'animazione cinematografica? Personalmente penso che la differenza la facciano sempre le storie poi il mezzo che usiamo, il sistema, la tecnica sono tutti degli arredamenti per una storia se la storia è bella si può raccontarla anche con delle fotografie in sequenza evidentemente per raggiungere il pubblico in un certo modo bisogna trovare dei sistemi e dei mezzi che siano sempre più congeniali a questo pubblico in questo caso noi abbiamo trasformato una tecnica di animazione che è il decoupage, la carta ritagliata sotto la cinepresa in un decoupage digitale quindi usando le moderne tecnologie abbiamo rimodernato, arricchito ancora di più una tecnica antica quanto il cinema di animazione il 3D è una tecnica interessante la utilizzo anch'io spesso però cerco sempre di nasconderla, di mascherarla mi piace cercare di non farlo vedere io non credo che il 3D debba diventare il fine di un'operazione il fine resta sempre raccontare una storia e quindi meno la tecnica si vede e più la concentrazione va sulla drammaturgia sulla narrazione e sulla possibilità di raccontare qualcosa e far riflettere le persone che guardano questo film anche i bambini molto piccoli in questo caso Grazie a tutti! Grazie a tutti!